Presidente, un nuovo tassello si aggiunge alla sanità abruzzese. Oggi si inaugura un importante macchinario molto all'avanguardia. Di cosa si tratta? È un acceleratore lineare che consente di fare cure tumorali, oncologiche, molto più rapide e molto più precise, quindi con molto meno danno collaterale per il paziente che viene investito da questa terapia e con una durata delle applicazioni molto inferiore che consente di passare, è stato stimato qui all'Aquila, da 500 a 800 prestazioni all'anno. Significa incrementare del 60% la capacità di cura per i nostri pazienti con evidenti ricadute sull'abbattimento delle liste d'attesa e sulla garanzia anche della tempestività con cui malati di gravi patologie come quelle oncologiche possono accedere al diritto alla salute.